Torniamo a parlare sul canale di televisori QLED vedendo il Samsung Q60 2020. Lo facciamo dopo aver visto il modello 2019 di cui vi lascio la recensione nelle schede che avete apprezzato tantissimo e perché ho preso il modello successivo vedendo che si è ripetuto lo stesso scenario che mi ha visto prendere il modello 2019 ovvero grazie all'offerta su Amazon la possibilità di comprare ad un prezzo basso un televisore 4K HDR smart con tutte le funzionalità possibili appunto nell'ecosistema smart forse il migliore disponibile con un pannello più particolare il QLED che mi permette di ottenere dei colori migliori e una nitidezza superiore rispetto agli stessi modelli su quella fascia di prezzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli dopo la sigla. Facciamo subito una distinzione questo è un Samsung Q64 disponibile in esclusiva su Amazon per questo ve ne ho parlato e l'unica differenza dal Q60 essendo uguale in termini di pannello sta nella cornice che è argentata perché il telecomando è il modello diciamo premium di Samsung ovvero colori in alluminio e comunque è comodissimo da utilizzare. Andiamo a capire quali sono le potenzialità del pannello QLED che però seguono quello che abbiamo visto in precedenza quindi come ho detto dei colori più saturi più vividi che restituiscono un'ottima visione in ogni tipo di situazione. Ho provato a vedere come sempre qualsiasi tipo di contenuto quindi dai video YouTube che stiamo vedendo alla TV normalmente posso passare rapidamente a un altro tipo di contenuto in questo caso sul Decoder Sky e proprio qui appunto ho visto numerosi eventi sportivi nonché le trasmissioni classiche che uno può vedere di approfondimento. La qualità di visione CE e si nota nettamente la differenza rispetto a un altro tipo di pannello tradizionale proprio perché il QLED sta relativamente alla tecnologia Quantum Dot associata appunto a un pannello LED questo permette comunque di avere un tipo di colore più profondo soprattutto poi con l'utilizzo della tecnologia HDR perché in questo modo abbiamo una gamma dinamica più ampia e ovviamente questo fa beneficiare tutta l'esperienza di visione. Il nuovo modello di appunto questo qui di quest'anno permette di avere alcune migliorie sulla retroilluminazione sulle zone comunque parliamo di dettagli anche se sono dei passi in avanti e c'è una lieve differenza anche nel tempo di risposta più rapida soprattutto poi se guardiamo all'ottica del gaming perché quest'anno appunto escono anche le console di nuova generazione se si vuole spendere una cifra diciamo non troppo elevata si può optare per questo televisore che ha anche la modalità gioco apposita quindi va in questo caso aumentare la luminosità e gestire un preset apposito per la modalità gaming per massimizzare le prestazioni quando utilizziamo una console che sia questa appunto Xbox Series X o PlayStation 5 ma anche una serie S come la One X tra virgolette di vecchia generazione. Andiamo a vedere com'è possibile personalizzare poi il tipo di interfaccia smart che abbiamo a disposizione si può sintonizzare con l'account di Samsung ed è possibile quindi importare tutte le impostazioni precedenti è stato così automatico il settaggio è anche molto semplice tramite l'applicazione da scaricare sullo smartphone anche per il settaggio del Wi-Fi. Troviamo poi alcune integrazioni che abbiamo visto anche sul precedente modello come la possibilità di gestire tutto quanto ad esempio anche il decoder Sky Q in questo caso ma era anche il MySky in precedenza direttamente con un solo telecomando quindi abbiamo sia la funzionalità di registrazione che troviamo ovviamente su Sky però possiamo poi gestire tramite comando vocale o inserimento diretto la possibilità di cambiare canale ad esempio adesso mi trovo su Sky posso andare a cambiare direttamente canale con questo telecomando non utilizzo proprio il telecomando dello Sky Q e ritorno in questo caso su Sky Sport 24. Altra cosa importante riguarda la compatibilità delle app smart proprio perché abbiamo tutto l'ecosistema di Samsung e tutte le applicazioni che sono uscite in precedenza ma c'è un rapido aggiornamento dello store nel momento in cui ci sarà bisogno di scaricare un altro servizio di streaming o magari uscirà qualche altro servizio tv lo troveremo sicuramente supportato. È successo così con Disney Plus ho fatto l'esempio nel precedente video ma comunque come vediamo è compatibile con tutti i servizi di streaming che oggi possono essere necessari come RaiPlay, DAZN, Netflix, YouTube e troviamo anche l'Apple TV, Cili, comunque anche Rakuten TV di cui c'è un pulsante dedicato sul telecomando. Abbiamo dei collegamenti rapidi anche ad Amazon Prime Video che adesso ho avviato tramite il comando sul telecomando ed è possibile navigare in modo molto semplice in tutti i menu. Abbiamo anche lo stesso tipo di discorso anche per Netflix come vediamo il passaggio tra un'applicazione e l'altra è estremamente rapido. Inoltre su questo modello oltre ad aver avuto un lieve cambio nell'interfaccia comunque è rapida come stiamo vedendo è possibile accedere a Samsung TV Plus e una serie di contenuti gratuiti messi a disposizione che sono disponibili appunto sui televisori Samsung. Inoltre per quello che ho detto riguardo alla possibilità di scaricare le app troviamo sul lato sinistro il menu delle app dove troviamo anche le applicazioni degli assistenti vocali che sono compatibili e si possono utilizzare al posto di Bixby tramite il telecomando perché c'è un microfono integrato nella parte alta posso andare a scegliere un sacco di applicazioni diverse e trovare magari dei servizi dedicati ad esempio avevo dimenticato Now TV ma ce ne sono tantissimi e troveremo comunque il servizio dedicato perché Samsung aggiorna spesso molto velocemente tutti i suoi marketplace relativi alle applicazioni. Andiamo a vedere quello che riguarda il settaggio di questa televisione relativamente alle impostazioni e come massimizzare l'esperienza di visione. Rimetto però in background un programma ad esempio quindi torniamo su Sky dove volendo per cambiare canale posso anche utilizzare i comandi vocali come sul telecomando standard dello Sky Q se ho quel tipo di decoder comunque andando poi sul pannello delle impostazioni troviamo una serie di possibilità. Partiamo dall'immagine possiamo scegliere un preset diretto per gestire il tipo di visualizzazione io lascio sempre dinamica perché comunque si adatta bene a seconda del contenuto che vado a vedere però se voglio specializzarmi comunque incentrarmi su un particolare preset per esempio quello dedicato ai film o magari al gaming troviamo come aggiunta su questo modello il filmmaker mode da provare a seconda del video che stiamo guardando il film che stiamo guardando oppure troviamo come vi ho fatto vedere anche film, modalità di riproduzione naturale la standard oppure la dinamica. Questi sono preset già fatti perché è anche possibile, oltre ovviamente a gestire l'immagine a 16 noni e troviamo diversi tipi di impostazioni posso andare a gestire le impostazioni avanzate che significa avere il pieno controllo su ogni singolo parametro dalla luminosità al contrasto, alla nitidezza, al colore comunque tutto quello che troviamo normalmente nella possibilità di settaggio di un monitor come anche in questo caso di una televisione. Ovviamente avendo il pannello QLED possiamo comunque giostrare in modo diverso e fare una serie di prove, è possibile fare qualche ricerca online per trovare magari qualche settaggio già collaudato che può andare bene a seconda delle varie situazioni io comunque dopo aver utilizzato per tanto tempo la modalità dinamica effettivamente mi trovo abbastanza bene posso anche andare a cambiare appunto le tonalità però ho inserito ad esempio in termini di colori il tono colore freddo perché dava un pizzico comunque di naturalezza in più all'immagine questo ovviamente è soggettivo sta a voi provare la particolarità è che è possibile avere una personalizzazione completa stesso discorso anche per il suono dove abbiamo un impianto audio a 20 watt come sul modello precedente la qualità dell'audio è comunque ottima si vede tranquillamente sia il film con passi o comunque un audio più acceso che il classico evento sportivo come anche se si vuole giocare appunto a qualche videogioco c'è un'ottima immersività però se si vuole fare uno step aggiuntivo io ho preso come vi ho fatto vedere in un'altra review che vi lascio nelle schede una soundbar comunque di livello iniziale che soprattutto per i film può dare una marcia in più in questo caso ci sono differenti modalità audio che possono gestire l'amplificazione a modalità standard e anche in questo caso seguendo la linea del preset dinamico ho messo suonato attivo quindi che permette al televisore di settarsi automaticamente in base al contenuto che stiamo guardando altra cosa importante specie in questo periodo è quella che riguarda la funzionalità di mirroring che in questo caso abbiamo integrata ed è disponibile per diversi tipi di dispositivi abbiamo sia la possibilità di fare appunto il mirroring tramite smartphone Samsung o tramite l'applicazione apposita e quindi inviare direttamente sulla tv i contenuti che preferiamo controllare magari youtube con il nostro smartphone ma anche allo stesso modo come ho appena attivato quello che riguarda la tecnologia AirPlay quindi senza comprare un'Apple TV o quello che servirebbe normalmente è possibile proiettare lo schermo di dispositivi Apple e non solo quindi anche per lavorare da casa può essere comunque uno schermo aggiuntivo che può tornare utile per diversi tipi di utilizzo andiamo infine a vedere quello che riguarda la modalità gaming compatibile con le varie console di cui ho parlato poco fa e nel menu altra precisazione si va a integrare a seconda delle periferiche che andiamo a collegare quindi avremo caselle dedicate a Playstation e Xbox quando le andiamo appunto a utilizzare con questo televisore passo sulla Xbox One quando vado ad avviare un gioco viene rilevato ed esce indicato che la modalità di gioco è attiva come ho detto questo va a alimentare un po' la luminosità del pannello e lo va a rendere un pizzico anche più rapido nel tempo di risposta proprio per massimizzare le prestazioni quando andiamo anche a giocare in modo magari un po' più competitivo se necessario dunque si tratta di un televisore completo sia dal punto di vista della funzionalità del pannello dell'esperienza di visione ma anche dal punto di vista smart come abbiamo visto anche per quello che riguarda la possibilità di aggiornamento tutti gli applicativi disponibili ma anche poi reattivo appunto nel sistema nonostante il prezzo non sia molto elevato in descrizione ci sono anche gli approfondimenti relativi a prezzi quindi link su Amazon ma anche la recensione completa su Techstart prima di chiudere andiamo un attimino a parlare anche della componente assistente vocale che vede questo televisore compatibile sia con Bixby tramite l'utilizzo del microfono all'interno del telecomando con l'assistente di Google e con quello di Amazon ad esempio è possibile dire Alexa spegni la TV quando me ne devo andare comunque se non voglio utilizzare il telecomando e tramite comando vocale appunto il televisore viene spento poi quando mi riavvicinerò posso sempre utilizzare il comando vocale per riaccenderlo posso dirgli alcune volte anche di andare a cambiare canale direttamente anche su Sky ci sono differenti funzioni disponibili sulla skill e sono man mano in aggiornamento alcune di queste non c'erano sul modello precedente e comunque andare a prendere come detto un televisore completo che andrà bene per la maggior parte delle necessità andando a spendere poi effettivamente poco quindi io chiudo qui il video spero che questa altra recensione vi sia piaciuta ho preso il televisore appunto per portarvelo sul canale fatemi sapere che cosa ne pensate per qualsiasi dubbio in ambito TV e non solo vedete scrivermi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram di cui trovate il profilo in descrizione lasciate un like al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per perdere dei prossimi io vi ringrazio perché abbiamo appena superato 18.000 iscritti e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo